ciao fiorellini ciao fiorelline oggi siamo un po più estiva porto giacchettino e porto questa maglietta che l'anno scorso non mi stava bene l'avevo comprata però non mi stava bene muovi faccio vedere vediamo un po più lontano la fotocamera è molto carina sempre di shay però è dell'anno scorso non l'ho comprata tanto che mi sta un po grande vabbè comunque quest'anno mi porto questi panni poi se meno di maria di più facevo compravo cose un po più piccoli oggi mio l'ho già aperto è arrivato shay come vi avevo già detto però lo vediamo dopo la sigla speriamo che lo possa tosare perché la batteria è a metà via sigla ecco sono ritornata voi ci proviamo a far vedere che è fatto e poi indosso roba così proviamoci allora la prima cosa che mi ha mandato shay è questo fogliettino non è mai successo che manda questo foglio che ci sono altri vestiti dentro che fa a vedere ok mi doveva arrivare il 21 invece mi è arrivato prima allora questa magliettina l'avevo presa per la kerry l'ho comprata per la kerry lei mi compra tante cose ci aiuta in tanti modi che non è che lo dico qua su youtube però la kerry ci aiuta tantissimo questa è la magliettina sua molto carina e che mu gliela do già sarei misurata e sta super bene questa magliettina e e poi ho comprato questi anellini qua doppia è aperto sono l'anelli che che muovi farò vedere allora il primo anellino è rosa e si metterò giusto così penso non lo so poi vediamo il secondo anellino è sempre sempre di tutti i cuoricini carino poi il terzo anellino mettiamo in tavola me vabbè questo qua con la pietra rosa a farfallina poi questo qua e ce lo invidiamo qua se vi faccio vedere poi questo qua carino questo poi ci sono altri tre anelli me l'ho pagato in una stupidaggine questo anello qua si vede questo sempre a cuoricini a fiorellini volo dire tanto che non si vede bene 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 e questo qua molto carini questi anelli rimettiamo tutti dentro la bustina perché così mi è arrivato prima che oggi è 13 e non so quando lo metterò questo video però perché lo devo preparare però è arrivato prima al 21 al 26 mesi dopo pasqua poche parole invece è arrivato prima di pasqua pensa pensate mettiamo dentro tutti gli anelli l'ho fatti vedere l'ho messo così perché vi volevo farli vedere sono molto carini più belli delle foto di shay più belli molto belli ok queste due cose sono tua poi ci sono mi servivano le mutande perché quando dimagrisci un po ti salvagano e poi pure si rompono forse bisogna comprare queste mutande di shay allora questa è la prima rosa rosa mutandoni ancora sono molto abbondante purtroppo questa è xl mi sa se xl non so se si vede perché a fotocamera si mette deve mettere a fuoco spero che si vede vabbè è molto carino lì diceva sono utili per le persone che hanno ma però a me quando io sono grassa e c'ho la panza mi piacciono altre mutande molto carina cotone l'ho presa di cotone sono molto elastiche belle ma sono belle sì poi c'è questa cosa qua sotto sono belle si queste sono rosa poi questa pure rosa con un altro disegno poi queste due altre due mutande quattro mutande ho speso 23 euro con una cosa del genere così sono bello perché a me mi piacciono le mutande alte e comode cosa diversa per esempio vedi sono diverse quelle altre sono già come una fascia molto elastiche belle mi piace queste qua sono come una fascia vedete queste qua sono come una fascia e l'ultima mutanda questa qua anzi non credo l'ora da metterle perché voglio vedere come ci sta dentro queste mutande voglio provare un'altra volta perché ogni mese mi faccio 20 30 euro di spese su shay perché io non posso comprarmi tutto una botta ma posso comprarmi qualche cosa ogni mese non mi sono comprate cose che servivano come pigiame mutande e basta ok questo qua sono il pigiame per l'estate pigiame estivo che io mi metto a pantaloncetti coniglio molto carino e bello e trasparente perché è estivo e io c'avevo xl 3 anno scorso ora mi metto la taglia xl o xl xl e le mutande sono xl e pure il pigiame per coniglietti il pezzo sotto e il pezzo sopra e c'è questo copri occhi per dormire e adesso ve lo faccio vedere indossato e poi ci vediamo dopo ecco questo è il primo pigiama che non so se si vede tiriamo più giù quasi mai ecco questo è il mio primo pigiamino che legge xl mi sta leggermente grandita poco però per tutta l'estate va bene a me mi frega questa panza la panza ok adesso andate lì faccio vedere altra un altro pigiama e non dosso sono ritornata e adesso spero che vi è piaciuto come l'ho indossato questo è il secondo pigiamino secondo pigiama allora il secondo pigiama tiriamolo fuori poi mi devo comprare due xl questo fa vedere meglio perché questo si vede meglio li devo comprare due però quanto ordinato se vede un altro stava segnato già questo è la cosa davanti perché ogni pigiama ha la cosa sua invece erano tre pigiama questi 52 da 5 euro che poi coi sconti dice non so se voi li fate i punti ogni giorno ti arrivano i punti un euro appunto allora ti fanno tutte queste cose così e fai sconti e ti paghi di meno tutti di coniglio mi piacciono a me coniglio ma con l'altro non mi ricordo che erano fatte e infatti così d'estate si dorme benissimo col pigiama e questo qua adesso vi me lo indosso e lo vedete ecco questo è il secondo pigiamino che mi sono indossata tanti chili ancora devo perdere tanti chili e vabbè comunque vi faccio vedere il prossimo pigiama e poi ve lo faccio vedere indossato ecco fiorini 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 sono ritornata e vediamo l'ultimo pigiama non è che c'è tanta cosa ecco questo l'ultimo pigiama ma non lo so qual era però che costava 6 euro non lo so allora faccio vedere subito la foto di la cosa questo è il pezzo sopra tutti con tutti di excel xl speriamo che con col tempo andrò ancora più giù di taglia sono sono sicuro speriamo questo è un pigiama viola con i suoi pantaloni viola uguale ok andate a vedere poi ritorno e ci salutiamo ecco questo è l'ultimo pigiama penso che se è viola e così voilà per adesso abbiamo finito andate che facciamo i saluti ciao 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 fiorelline fiorelline adesso ho finito da andossare i miei pigiami e è ok è finito pure questo video spero che vi è piaciuto e vi ho fatto compagnia e adesso vi saluto e ciao al prossimo video al prossimo shopping suce e speriamo il presto possibile io mi compro a ramo non c'avevo i pigiami mi sono comprato i pigiami e se mi sta grande le magliette che non puoi buttare via ogni taglia e farlo questa qui per sempre è grandissima questa maglietta però io me la metto uguale va bene io adesso vi lascio ciao al prossimo video make a bacio ciao 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 ciao